Lo sai per quando non l'ho preso? Ma lo sai per che cosa è stato? Aspetta, ma lo sai per che cosa è stato? Perché è una cosa che non l'ho mai usata. Mai usata, per questo. Vabbè, amo da casa sparare sulla cucchia di Reggio Osh. Con le accuse di associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'essere armata, tentato omicidio aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, reati in materia di armi e ricettazione, tentata rapina, tentata estorsione aggravata, evasione e favoreggiamento personale, la polizia di Catania ha arrestato 21 persone. L'indagine si è sviluppata tra il 2018 e il 2019 nei confronti di un'associazione, anche di tipo mafioso, operante nel territorio di Adrano e nei comuni libitofi, capeggiata da Cristian Locicero e collegata alla famiglia mafiosa Mazzei o Carcagnusi di Catania. Le investigazioni, riscontrando le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, hanno consentito di appurare come Locicero, sotto legida della famiglia mafiosa Mazzei, ha approfittato di un vuoto di potere venutosi a creare a seguito dei numerosi arresti degli ultimi anni, che avevano fatto Piazza Pulita, Declan Sant'Angelo, Tacuni e Scalisi. In questo modo è riuscita a conquistare notevoli spazi, specie nel settore del traffico e dello spaccio, di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, Locicero ha quindi promosso, organizzato e diretto, un utrito gruppo criminale coadiuvato dal fratello Agatino e dai pregiudicati, Luigi Bivona, Francesco Celeste, Francesco Lombardo, Francesco e Giuseppe Restivo. A loro volta, questi potevano fare affidamento su decine di affiliati. Nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosi sequesti di armi e munizioni. Il gruppo gestiva un vasto traffico di sostanze stupefacenti, che poi provvedeva a commercializzare non solo nel territorio di Adrano, ma anche in quello di altri comuni delle province di Catania, Caltanissetta e Nera Gusa. L'approvvigionamento della cocaina avveniva tramite soggetti appartenenti al clan Mazzei Carcagnusi di Catania, mentre il rifornimento di marijuana avveniva tramite dei canali albanesi, la cui presenza del referente è stata più volte documentata da Adrano. L'acquisto di eroina avveniva tramite dei contatti operanti nella provincia di Messina.